il campagnatico è stata una partita pazzesca, ricca di emozioni, ricca di gol, ricca anche di belle giocate. È una partita decisamente vietata ai deboli di cuore. Il risultato finale di tre a due ha premiato la nuova Grosseto, protagonista di una grande partita, ma il campagnatico ha giocato con il piglio della capolista ed ha anche accarezzato l'idea di tornare a casa con i tre punti sulla superficie sintetica dello stadio Bruno Passalacqua di Grosseto. Le squadre si presentano in campo agli ordini dell'arbitro, il signor Simone Ferrara della sezione Aia di Piombino, la nuova Grosseto in maglia gialla, il campagnatico indossa un completo variegato di colore nero con richiami bianchi e celesti. Vediamo adesso con le riprese effettuate da Edgardo Cerretti, le azioni principali di questa partita, emozionantissima al quinto minuto, punizione di Silvestro Burioni C'è, ma l'esperto attaccante del campagnatico sbuccia la palla da ottima posizione. Al settimo replica la nuova Grosseto con Angelini che lavora una bella palla a beneficio di Bruni che tira di collo pieno i difensori del campagnatico fanno muro. Un minuto dopo siamo all'ottavo azione bella e veloce della nuova Grosseto sull'asse tra Balzini, Morelli e Bonzanti. Su quest'ultimo chiude benissimo il portiere Alessandroni in uscita. La partita è vivace e piacevole sin dalle prime battute. Al tredicesimo Silvestro fa partire un tiro a scendere dal limite dell'area. La palla sorvola di poco la traversa. Quattordicesimo tiro di Valentini numero tre del campagnatico dalla sinistra. La sua conclusione è deviata e la nuova Grosseto sfiora un clamoroso autogol. Diciassettesimo si sblocca il risultato. Super gol di Angelino che prima serve una palla al bacio a Trabalzini al numero undici della nuova Grosseto. Su Trabalzini si chiudono le maglie difensive del campagnatico. Poi la palla arriva nuovamente ad Angelino che deposita con dolcezza in fondo alla rete. Nuova Grosseto in vantaggio al diciassettesimo del primo tempo. Nuova Grosseto uno campagnatico zero al ventiquattresimo. Doppio cambio per Nicola Pedone l'allenatore del campagnatico eh richiama fuori Chelini e Panfilo dentro Briosi e Sforzi sicuramente una scelta coraggiosa quella di mister Nicola Pedone ma passano appena due minuti e si fa male fiamma male Brioso il quale cade e ehm rimane dolorante in maniera seria ad un braccio. L'arbitro è costretto a sospendere la partita per diversi minuti in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Poi Briosi si rialza con le proprie gambe e esce dal campo dolorante tra gli applausi. Successivamente sarà trasportato eh all'ospedale Misericordia di Grosseto dall'ambulanza. Al suo posto entra in campo Giannerini. La partita quindi riprende dopo diversi minuti e al ventottesimo minuto Morelli serve un assist perfetto all'autore del gol Angelino il quale però in questa occasione ci caclamorosamente. Trentacinquesimo tiro velleitario di Catella fuori dallo specchio della porta. Un minuto dopo trentaseiesimo la ripartenza di Trabalzini potrebbe essere letale. Alessandroni si oppone con efficacia alla conclusione del numero undici della nuova Grosseto. Poi arriva il tiro di Bonsanti che non trova il raddoppio per la nuova Grosseto. Trentottesimo provvidenziale l'uscita di Alessandroni portiere campagnatico il quale anticipa Barbieri lanciato in contropiede al quarantatresimo nuova tegola per il campagnatico. Si fa male anche sforzi il quale comunque attende la fine del primo tempo per verificare se riuscirà a rimanere in campo. Si fa quindi al riposo con la nuova Grosseto in vantaggio per 1 a 0. La ripresa vede fortunatamente sforzi in campo quindi vuol dire che il giocatore del campagnatico riesce a rimanere sul rettangolo di gioco. Dopo due minuti siamo al secondo della ripresa azioni della nuova Grosseto. Alessandroni in uscita ovvero il portiere del campagnatico cerca di anticipare il rimbalzo. Poi però perde la palla che gli scivola dalle mani ma si riscatta con una bella parata. Tredicesimo. Sforzi cerca il gol dalla lunga distanza. La sua conclusione termina al lato. Sedicesimo del secondo tempo. Fallo in area ai danni di Silvestro. L'arbitro assegna il rigore al campagnatico. Al tiro dal dischetto va lo stesso Silvestro che la piazza all'angolino con potenza firmando il pareggio del campagnatico. Siamo adesso sull'uno a uno tra nuova Grosseto e campagnatico al sedicesimo della ripresa. Tre minuti dopo diciannovesimo. Magia di Silvestro il quale lascia partire un bolide di rara potenza. Calcagno portiere da Nova Grosseto. Si esalta con una super parata. Decisamente spettacolare. Un minuto dopo non c'è un attimo di tregua. Burioni crossa dalla sinistra. Il colpo di testa di Bartalucci è parato da Calcagno. Ma è questo il momento di Bartalucci ovvero del numero nove del campagnatico che tre minuti dopo al ventitresimo firma il gol del sorpasso. È come un falco Bartalucci in area. Piazza la palla in fondo alla rete con un tiro che è per metà un colpo di biliardo e per metà un tiro chirurgico campagnatico in vantaggio dopo aver ribaltato la situazione. L'azione con i gol di Bartalucci è talmente veloce che scoglie parzialmente di sorpresa anche il nostro operatore. Quindi vi documentiamo in maniera parziale il gol di Bartalucci che riporta in vantaggio il campagnatico per due a uno ma al ventisettesimo si ristabilisce la parità. C'è l'euro gol di Calzolani Tommaso Calzolani classe duemila uno il quale si inventa un gol strepitoso su punizione la sua conclusione da applausi. Gonfio alla rete dopo una parabola perfetta. Calzolani firma questo gol e si torna in parità. Nuova Grosseto due campagnatico due partita incredibile al trentatreesimo punizione calciata in maniera arcuata da Calzolani specialista nei calci piazzati Angelino ha lo spazio per tirare ma la conclusione è abbondantemente alta. Trentaseiesimo pezzo di bravura di Badie numero cinque della nuova Grosseto per lui c'è un cost to cost fatto con eleganza e palla al piede per oltre cinquanta metri parte dalla propria metà campo arriva nei pressi dell'area di rigore del campagnatico poi non riesce a concludere ma la sua azione è da applausi a scena aperta se avesse fatto gol Badie sarebbe davvero stato un gol da cineteca ma davvero da menzionare la prestazione e questa splendida azione del numero cinque della nuova Grosseto trentasettesimo siamo sull'altra parte del campo c'è il cross di Burioni dal fondo Calcagno respinge con i pugni quarantesimo Scrivano illumina in profondità per Zarone che metta al centro dove Angelino insacca l'incredibile tre a due per la nuova Grosseto quarantesimo della ripresa Angelino l'ha ribaltata aveva iniziato lui le marcature le conclude lui gol pazzesco e partita rocambolesca ha firmato il gol del tre a due Angelino adesso il risultato vede nuova Grosseto tre campagnatico due quarantaduesimo Angelino illumina in profondità per Zarone che incrocia e sfiora il possibile quattro a due per la nuova Grosseto poi in pieno recupero quarantottesimo della ripresa novantatreesimo minuto complessivo minuto complessivo Calzolani lancia Angelini anticipato di un soffio da Alessandroni termina qua con la vittoria della nuova Grosseto per tre a due nuova Grosseto che fa festa per una vittoria di prestigio contro la capolista e per aver dimostrato di poter giocare alla pari contro le grandi del campionato eh il campagnatico esce amareggiato ma sicuramente a testa alta la squadra di Nicola Pedone ha giocato con il piglio della capolista e si è resa soltanto ad una grande nuova Grosseto di mister Adamo Cirillo grazie a tutti